Nel nostro formaggio ci sono latte, sale e caglio e nient'altro. Nel siero ci sono i batteri lattici. L'unico additivo è Renatino, che lavora qui da quando aveva 13 anni. Tutti i giorni, 365 giorni l'anno e seppi se stile, 366. Renatino, ti posso dire, sei un grande coi... Il meglio. Ma davvero lavori 365 giorni l'anno? E sei felice? Sì. Ragazzi, lo sentite questo profumo? So ste vacche, cagano come maledette. No, intendevo il formaggio. Dicevo, lo sentite questo profumo? Questo è l'amore che ci mette Renatino. Pfff! Pfff! E te vive! Pure è il mucca tenendo noi giorni liberi! Un cazzo! Pfff! 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 Grazie a tutti.